Ben trovati dalla redazione di News24.city. USA 2016 e Obama riceve Trump, colloquio eccellente, ma le differenze restano. Continuano le proteste in 25 città, 100 gli arresti. USA Trump lavora per il governo, pronta la shortlist di 41 nomi. Rudy Giuliani in pole per la giustizia, Duncan Hunter possibile capo del Pentagono. Egitto rilasciati due pescarecci fermati ieri ad Alessandria, fonti informate al Cairo, armatore Asaro conferma. Parigi inaugurato allo Centro Humanitaire Paris Nord, un nuovo centro d'accoglienza migranti con desk, orientamento e 400 posti letto. Africa Gentiloni, fermare la catastrofe umanitaria, il ministro in Niger, missione congiunta con l'Unione Europea sull'emergenza, migranti. Musica, addio a Leonard Cohen, poeta visionario. Poche settimane fa il suo disco Testamento aveva 82 anni, lo annuncia alla sua casa discografica, la Sony Music Canada, la sua pagina Facebook.